Da creativo pubblicitario e scrittore qual è Mirko Addesa ama giocare con le parole e i significati diversi che esse nella nostra bella lingua possono avere. Lo ha fatto anche per pubblicizzare un evento che era il suo sogno e che ha organizzato, quello di portare a Campobasso, definita la città dei misteri, tre mostri sacri della letteratura noir italiana del giallo di atmosfera del mistero. Addesa ha giocato appunto con la parola misteri, che nel capoluogo molisano sono gli ingegni del Dizin, una sorta di manifesto, per contestualizzare ancora di più il concetto ha chiamato la rassegna Tintilia Noir, facendo riferimento al vino autoctono della nostra terra scuro e forte. Avremo tre appuntamenti, il primo sarà domani alle 18.30 presso la libreria Mondatore di Via Petrunto, avremo Pier Giorgio Pulixi, attualmente uno dei migliori autori giovani tra l'altro di noir, il suo ultimo libro è stato definito fra i dieci migliori thriller dell'anno e saremo felici di averlo. Poi avremo il 27, Cristiana Stori, che è una, l'abbiamo definita, l'hanno definita molti, una dark lady col sorriso, un'attrice di thriller, il suo personaggio Susanna Marino, una donna, una ricercatrice di pellicole scomparse, molto amata anche da Dele Argento, da John Lasd, tra l'altro anche sceneggiatrice di alcuni puntati, alcuni albi di Dylan Dog, quindi anche fumettista, e il 25 avremo quello che io considero effettivamente l'evento di questa manifestazione, perché avremo la possibilità di avere in città uno dei più grandi autori noir a livello internazionale, che è appunto Massimo Carlotto. Una rassegna di letteratura noir, un genere settale, possiamo definirlo, che appassiona molti, al quale anche tu, Mirko, ti dedichi, ormai da tempo è uscito dai cliché classici che lo confinavano alla letteratura americana o a un certo cinema, assumendo pure connotati specifici riconoscibili a seconda se il romanzo noir sia scritto in Italia, Svezia, Francia o in altri paesi. Pulixi, che essendo sardo, ma comunque vive a Milano, ha ambientato spesso le sue storie, tanto in Sardegna quanto a Milano, come l'ultimo appunto, lo stupore della notte, che verrà anche a presentare qui. La stessa Cristiana Astori, che essendo piemontese, ha ambientato spesso nella sua città, che è Torino, e Massimo Carlotto, che spesso e volentieri ha ambientato quasi tutte le sue storie nel nord-est. Massimo Carlotto sarà a Campobasso il 25 ottobre al Circolo Sannitico alle 18.30. Alla stessa ora, il 27, nella sede di Moma a Redi, arriverà Cristiana Astori.